0-0 il parziale tra la Juventus e l'Empoli, la Juventus che adesso spinge con continuità in avanti, un po' di affanno da parte della difesa toscana che fino a questo momento perlomeno ha subito due veri, soli rischi nel primo tempo con Manzo che c'è nel secondo, con Bernardeschi, attenzione Manzo che ce la tocca, Ken Destro ha segnato la Juventus esattamente al minuto 27 nel corso del secondo tempo, cambia il parziale all'Allianz Stadium e può inscenare la sua danza, Moises Ken evidentemente, il suo piede destro in questa fase della stagione è letteralmente baciato dalle divinità del pallone, è andato a sfruttare il giovanissimo ragazzo della Juve un'assistenza di Mario Manzo che ha saltato di testa al limite della sua era di rigore, ha messo indietro il pallone per l'arrivo del compagno di Reparto che non ci ha pensato due volte appena entrato nei 16 metri ha esploso il laderso indirizzandolo nell'angolo più recondito e lontano lì dove Dragoschi non è potuto intervenire la Juventus e passando in vantaggio al 27esimo nel corso del primo tempo la rete